Ben tornati ad un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it Previsioni per domenica 25 agosto Una moderata alta pressione interessa al nostro paese Tuttavia nel pomeriggio si accenderà l'instabilità soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it Al nord generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso Da rilevare nel corso del pomeriggio lo sviluppo di temporali anche forti su tutto il Trentino Alto Adige Spostiamoci ora al centro dove la giornata sarà prevalentemente asciutta e soleggiata Da segnalare solamente temporali pomeridiani sull'Umbria e sulla Toscana Meridionale E inoltre dei piovaschi sulle aree interne della Sardegna Raggiungiamo infine il sud Atmosfera instabile sulla Basilicata dove sono attesi dei temporali pomeridiani Tempo soleggiato invece sul resto delle regioni I venti soffriranno dai quadranti settentrionali Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste Di notte i valori toccheranno punti minime di 15 gradi e non supereranno i 24 gradi su tutta l'Italia Durante il giorno attendiamo invece fino a 33 gradi sia al nord sia al centro E punte di 35 gradi sulle regioni meridionali Bene per ora abbiamo terminato Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram E il nostro sito ilmeteo.it dove la il fa la differenza Arrivederci Grazie Grazie Grazie.